Il gol ritrovato, nonostante la sconfitta e l'eliminazione dalla Coppa Italia di categoria, la volontà di mettersi alle spalle un poker di KO e la consapevolezza delle qualità a disposizione. Questa è l'eredità con cui il Bitonto è tornato a casa dal 2-1 del Degli Ulivi di Andria, partita che non ha invertito rotta per quanto riguarda i risultati, con la vittoria assente dal 10 settembre, ma ha dato a Valeriano Loseto segnali interessanti per studiare la ripartenza, individuati dallo stesso allenatore. Soprattutto il ritorno al golf, finalmente da parte di Tedesco, abbiamo creato qualche occasione, nonostante le abbiamo concesse anche altre, bravo Pettaroli a evitare che l'Andra andasse sul 3-0, però noi ci siamo, soprattutto nel secondo tempo, ci siamo proposti, abbiamo creato e quindi questi sono segnali che la squadra è viva. Al Degli Ulivi si è vista anche una novità tattica che potrebbe non restare isolata, la difesa 4 in controtendenza con il 3-5-2 indossato dal Bitonto nella scorsa stagione e nelle prime uscite ufficiali di questa annata sportiva, strategia che potrebbe essere confermata anche domenica prossima quando Gianfrede e compagni faranno visita al Matera. Abbiamo proposto una difesa 4 che ci ha dato buone garanzie su quello che può essere anche qualche scelta in futuro, quindi domenica dobbiamo andare a Matera, a prescindere da quello che sarà lo schieramento tattico, affronteremo una squadra sicuramente ben allestita che fino alla sconfitta col Barretta stava facendo bene sotto l'aspetto dei risultati, ha sempre espresso un buon calcio, però noi abbiamo bisogno di punti, bisogna andare lì con una grande cattiveria calcistica, agonistica e cercare di fare quanti punti più possibili. Quello in terra lucana sarà un incrocio con un avversario reduce dal K o casalingo contro il Barletta, risultato che ha interrotto un trend positivo, quello che il Bitonto vorrebbe ritrovare. La vittoria manca dalla prima giornata quando i Neroverdi contro l'Angria hanno segnato anche l'unico gol in campionato. I punti sono assenti dal pareggio del terzo turno contro il Santa Maria Cilento. Non sarà della partita a Matera a Campora per il doppio giallo rimediato con la Paganese da valutare le condizioni di figliolia, fischio d'inizio alle 15.